L'azienda è fatta soprattutto di persone che debbono essere trattati come esseri umani, perché io oggigiorno vedo che c'è proprio mancanza di fratellanza, di unione, di comunicazione, che è fondamentale, specialmente quando tu vivi all'interno di un'azienda, perché è più il tempo che tu passi assieme che quello che passi a casa tua, capisci? Quindi per me è veramente molto importante. Lei è Arianna Costarelli, titolare insieme al fratello di un'azienda pesarese che si occupa di ascensori. I lavoratori hanno 30 dipendenti, 15 dei quali sprovvisti di Green Pass, il certificato verde che dal 15 ottobre sarà obbligatorio anche per accedere ai luoghi di lavoro. Nel settore privato i controlli spettano ai datori di lavoro, che con atto formale possono anche individuare i soggetti incaricati dell'accertamento. Il governo ha precisato che se le verifiche vengono effettuate a campione sui dipendenti, le aziende non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass, a condizione che siano stati rispettati i modelli organizzativi. In caso contrario i datori rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro, invece il lavoratore senza passaporto verde incorre in una multa che va dai 600 ai 1500 euro. C'è trovarsi dall'oggi al domani con degli obblighi pesanti, e diventa difficile. La scelta che è stata fatta è stata quella di radunare i Green Pass di tutti, di fare i tamponi per i ragazzi che non si vaccineranno, perché abbiamo una buona metà dei ragazzi che hanno deciso di non vaccinarsi. Per quanto riguarda il costo, io ho parlato con mio fratello, abbiamo deciso di assorbirlo noi come azienda, però come ti dicevo prima non abbiamo avuto un attimo di dubbio, perché capiamo che 200 euro, 250 euro per una persona che prende uno stipendio sono tanti. Ed ora come si sono organizzati i suoi dipendenti per i tamponi? Allora loro si sono organizzati che tre volte alla settimana chi non ha il vaccino andrà a fare il suo tampone, lunedì sera, mercoledì sera e venerdì sera solo le persone che fanno la reperibilità, perché noi lavoriamo tutti i giorni, compreso sabato e domenica, e chi invece non sarà in reperibilità andrà al sabato sera, così il lunedì sarà coperto. Quindi diventa anche una gestione doppia per quanto riguarda l'organizzazione, la logistica. Secondo voi quali sono i rischi? Queste nuove disposizioni possono anche compromettere la competitività delle aziende? Allora, sì, perché io tu sei un'azienda strutturata, e quindi se sei strutturata puoi permetterti di far determinate cose, se non sei strutturata diventa molto più faticoso, perché capisci che comunque sia il costo del personale, cioè assumere una persona che faccia solo quello è difficile. Inoltre, a proseguito Arianna, c'è un altro problema. Secondo me, ha detto, quello che viene fatto ad alti vertici viene fatto per eliminare le piccole e medie imprese, mettendo tutto nelle mani dei grandi gruppi. Quello che mi dispiace, e sono convintissima, è che svenderemo tutto alle multinazionali. Tutti, tutti faremo così. Cioè la piccola e medie imprese da qui a 10-15 anni, secondo me, andrà a sparire in Italia. Ed è triste, è veramente tristissimo, perché come i medici, secondo me, all'inizio avevano il potere di poter fermare questa cosa se si sarebbero opposti, con coscienza ovviamente, noi potremmo fare la stessa cosa, cioè non dare l'Italia in mano a chi fa gola, perché c'è parecchia gente a cui l'Italia fa gola.